Va a vedere Dai no no mi stai No ti prego Non hai il mouse su sto giro? Ma che ma... dove? Dov'è che c'è il mouse? Stai dicendo? Tui! 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 Nel video di oggi andremo a fare una cosa Veramente brutta Nei confronti di mio fratello Ho chiamato oggi uno dei miei migliori amici Per fare uno scherzo epico ragazzi A Lucas Quello che andremo a fare Spiegano tu Andremo a fargli uno scherzo Con la tastiera wireless Mentre gioca Ragazzi lo andremo a fare impazzire Ragazzi mettetevi comodi Lasciate fin da subito un mi piace Perché oggi dobbiamo veramente Spaccare tutto Perché Lucas ragazzi Oggi impazzirà Perché in realtà penso che andrò a lanciargli una sfida Tipo dove gli do Ora 100 euro Se vince la partita Ma non la potrà mai vincere Perché lo faremo incazzare Con la tastiera Quindi ragazzi Mira quando ho lasciato un bel mi piace Arriviamo ragazzi oggi a 10.000 like Quindi lasciate adesso un mi piace Mira quando iscrivete al canale Perché dobbiamo arrivare a 300.000 iscritti Perché ferò uno speciale molto bello Sempre con mio fratello ragazzi Che non vi spoilerò nulla Però mira quando iscrivete ragazzi Perché dobbiamo arrivare a 300.000 Detto ciò ragazzi Adesso vi lascio il video Capirete tutto durante il video Quello che è successo Quello che abbiamo appunto fatto con mio fratello Buona visione Ma prima di continuare con il video Volevo ringraziare lo sponsor di oggi E sto parlando ragazzi di Core Ma di che cosa si tratta Zane Vi spiego in breve ragazzi Se voi volete creare un vostro gioco Totalmente in modo gratuito Da zero ragazzi Core fa a caso vostro Con il suo motore grafico Ovvero Unreal Engine Che tra l'altro ragazzi È lo stesso motore grafico Che utilizza anche Fortnite E potete sbizzarrivi E creare giochi di ogni tipo Che vanno dagli sparatutto Giochi di ruolo Sim Oppure ragazzi Battle Royale Ma in caso che non siete interessati Nel creare giochi da zero Ma volete semplicemente giocare Core ragazzi Ha veramente una vastissima Libreria di giochi Che potete giocare in modo Totalmente gratuito Ed ogni giorno Continuano sempre ad uscire Tantissimi nuovi giochi Veramente molto belli E io ad esempio Ho provato questo sparatutto Dove c'è veramente Un sacco di armi fighe Tra l'altro ragazzi C'è anche uno spara Oh dog Veramente figata Cioè immaginatevi ragazzi Poter sparare ai vostri nemici Con delle salsicce Cioè una figata pazzesca Una figata pazzesca Se creerete per caso Un giorno Un gioco veramente bello Io sarò il primo a giocarci Ve lo assicuro Però bisogna creare Un gioco veramente figo Io vi lascio il link Qui sotto nell'iscrizione Passate E ora vi lascio con il video E buona visione Oggi Lucas Andrò a regalare Soldi su Fortnite 100 euro ogni kill Ancora? No 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 Oggi Lucas Perché non me lo vuole più far fare Quel video Se vuoi A parte che sono cresciuti Un po' troppo i cappelli Secondo me Ciao No 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 Ragazzi Un 30.000 like E lo tosiamo di nuovo Che dite? No 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 Allora ragazzi facciamo una cosa E oggi Quello che andremo appunto a fare con te Lucas E andrò a dare 100 euro Se dovessi vincere una partita in arena Con 10 kill Che dici o 5 8.000 punti Trovo i pros Va bene ragazzi 5 kill Tanto ragazzi è un fattume Nel senso Cioè 5 kill Sono già troppe per lui Però Lucas dai Ti stai scaldando? Sei da 20 minuti Che stai prebuildando Che 20 minuti Robi di fk Quitta 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 Vai Lucas qualice creatore Al volo giusto per ricordarcelo Zane SG Vai nel ligozoggetti Voglio controllare Dai no Questo l'ho messo Perché volevo la richiesta di Però non gioca Ti più Correggi subito No 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 Zane È Oh Lucas Scorci Ten se ci hai messo E nulla Partiamo Vai in partita Arena Allora Sei pronto? Più o meno Lucas hai solo Ovviamente un tentativo Allora Lucas Dov'è che vuoi droppare? 5 kill Alle casette di Steelix Proprio così No Così Così campi in arena Ah so 5 kill È free Allora facciamo una cosa 5 sono troppo poche Dai no no Ti prego 5 Impari a dire che sono un pattume Inizio la missione Per far incazzare Lucas Sono in chiamata Discord Ogni volta che Zane dirà Certe parole Come Stai fightando Io inizierò A saltare con la tastiera O premere tasti a caso E C'è anche la condivisione Dello schermo Con la streaming su Discord Quindi Sarà divertente Ma vuoi andare Da veramente così lontano? Ma È droppato Dai ho mi scliccato Che palle Vabbè sciallo Dov'è che droppi? Non lo so Adesso droppi in quella casetta di padre Dai che palle C'è pure una persona Dove? Lì Guarda come è allenato No 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 Non vuoi andare a rischiare? Non c'era anche la cesta Bello sto loot Pistolina Ci sta Belle armi Beh bello Nice Eeeh Ma che c'è? Cosa? Luca c'è il pad rotto C'è normale In senso L'hai rotto te Ragazzi Poi ditemi se è normale Che gli devo regalare un pad nuovo Ogni nuovo mese C'è ragazzi ogni mesi Dove regalargli un pad Luca c'è normale La gente è scarsa L'arena mi killa Non lo so Mi entrano full air in box Allora luca dove è che vuoi andare Adesso luto un attimo Fammi lutare Stanto su 5 kill 5 kill Senso comunque Sono tosto per te Stai zitto stai Uh Bel combat Del tuo livello No io te lo giuro Non ce la faccio più Che mi si stacchi il pad E Dio Luca stai visto Allora ti devi concentrare Scusa nello splash Sì adesso Dai mi mi sto Mi si sta baccando tutto In che senso Non lo so Hai presente che ho il cavo lungo Perché non Va a casa tua È un casino Sto star di cavo Io in che senso il cavo Non ho capito Ma non lo so È perché hai presente Che quello lungo Non prende bene l'input Quando si attacca il pad Il micro sb ecco Io non ne so nulla Zero Cosa? Cosa hai visto? Ah cesta reale Uh Mi ho trovato Scudone Che stai facendo? Non ce ne so io Ma che stai facendo? Spanato Ma che stai facendo Lucas Ma che palle Tirate le splash No no ora no Dai ma Cos'hai? Non lo so Non sto premendo un cavo Mini shield Cosa? Fa vedere Cosa Dai no no Mi stai No ti prego Cosa c'è? Non hai il mouse Sto giro Ma che ma Dove? Dov'è che c'è il mouse? Stai dicendo? Oh non vedo un cazzo Aspetta fammi mettere bene Concentrati Lucas Guardi sono 100 euro in paglio Sai ti ricordo che sono 100 euro Devi ancora fare una kill Dai zero Vai a pushare qualcuno Vai a pushare quello di prima Che hai visto allo start Eh sì Ci sto provando Oh mio dio Mi sto triggerando un sacco Te lo giuro E non c'è nessuno raga Ma sai che Ma No 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 Qual è il tuo problema? Se dovessi No 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 Non hai neanche il mouse Non ho neanche più scuse Che cos'hai? Ma non lo so Mi premi i tasti da solo Non ho neanche più le scuse ormai L'hai finito tutto Il vocabolario di scuse l'hai finito Oh ma basta piangere Cos'hai? Ma non è come Non è una scusa Prende se sono mi fa il pad Oh mio dio Io non so Io non so nulla Cosa vuoi da me? Non c'ho il mouse E qui il mouse Dell'altra volta E questo Il mouse E questo Cosa vuoi? Cioè ragazzi Guardate Fermo Adesso però stai fermo Grazie Stai fermo Appoggio Cosa stai cercando? Stai cercando Di trovare Wolverine? E calcoli che non c'è tanta gente qui Vai pushalo 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 No no Oh cosa c'è? Ma stai vedendo? No Vai pushalo No 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 Devi ucciderlo Lucas È roba tua No 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 Pusalo è lì sotto Pusalo Vai Spara Scendi 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 No 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 Dai no 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 È pure forte È pure forte Cosa c'è? Vai pushalo 140 Uccidilo prekill Dai Vai Vai lì Dai 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 Oh mio dio Che cosa c'è? Ma hai staccato il pad? Non ce la faccio più Grazie Luca No No Luca No Basta No Mi hai rotto le palle Ma hai stilato il tuo pad? Ma che cazzo vuol dire? Palle Che palle Ma cosa cosa c'è? Ma porca lei l'hai visto? No Ah no ho visto che stavi lagando Ma non so che sia lag che cosa ne so io Dai posso? Un'altra ti prego Sono serio L'hai visto pure tu Non è una scusa Sì però Luca Se non possiamo far sempre video così Ma lo so Non ha il mouse Te lo giuro Cioè io cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto anch'io? Luca Se non possiamo far sempre video così Però mori sempre Vuoi fare un altro tentativi? Basta 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 Dai Un'altra basta Ti giuro Va come va lo carichi Ok Te lo giuro Dai in senso Adesso vediamo Cioè Non riesci a farmi neanche una chi Ma che vi do è Non devi farmi una chi Cioè devi farmi due tre chi Dai cavolo Ma quanto sei scarso Poi ma come gioca Non voglio trovarle scuse Allora Luca 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 Dove vuoi andare adesso Andiamo a bruciare Dove a bruciare Ti troppo io No Vabbè Scara Come la guarda Mi giuro che se stavolta Ma stavolta cosa Ma non lo so Aspetta Corsa automatica Freak Io problemi Sono da una tua postazione Che palle Io ragazzi Non ne so Hai un pc di merda Perché fa schifo E non mi dirti no Qui Tutta la postazione Ragazzi ma il mio pc è bellissimo Mi da prendo un nuovo pc Dici Stai zitto Stai che fa schifo Mi da comprare un nuovo pc Ragazzi Mi comprerò un nuovo pc Di per se Giorno Quattro pompa Presi Usciano No 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 Non sono io Ma porca Ma lo vedi Hai pusciato il tuo No 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 Vecchio Vai Vai E tuo 3 2 1 Entra lì Dai Ma che cosa hai Oh Basta Luca Sai basta Dopo un po' Non ne posso più Nemmeno io Basta E' un pattugno No 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 Ne faccio farlo No no Fermo Appoggia quel pad Mi ha ballato Ti sta ballando Ma ti sembra normale Che tiri il pad così Totti È il meraviglioso bambino Mi ha pure ballato Mio dio Però Luca si dico Non puoi Sempre Tra le scuse Ma che Scusa è Ma ti sembra Cos'è successo Stavolta Non hai visto che mi metteva Il cazzo di muro Saltava Comunque sei proprio Sei proprio Sei proprio L'umido Sei proprio la spazzatura L'umido sei Sei l'indifferenziata Sei la pazzatura Non spingermi Oh sei l'organico Mamma mia Che pattume Amore mio Vieni qui Vai Pantano Pantano Brughiere 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 No no Che salto Mi devi rompire No decidi io No mi devi rompire No no Pantano Bene Brughiere vai Oh però questo è l'ultimo tentativo Non tendo più nessun altro Basta Non me ne frega niente Te lo giuro che se vedi Un'altra volta Che mi salta da solo Prendo e te lo giuro Lo apre a metà il pad Te lo giuro lo faccio Non me frega un Beghello Posso registrare con la doppia webcam Dalla mia postazione Per favore Perché? Ma perché mi salta da solo Che stai Che so io Sì però te e Lucas Ogni volta travi scuse No 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 Basta Non me ne frega un Stato Mi ha delle scuse Non è una scusa Perché? Perché dovrei usare Ma cosa guarda? Non ce ne sono Luca? Sì Ah Guarda che questa ti uccide No 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 Questa ti uccide Questa ti uccide No 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 Mi ho gotto Ma perché? Avevo ripristato il muro Mi ha sparato No no Il pad 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 no Vitto Lucas Purtroppo Lo carichi Dai Lo carichi veramente Cosa? Il video Purtroppo Purtroppo sì Perché era uno scherzo Che cazzo dici? No sto scherzando Non c'ho nulla Io non c'ho nulla Perché? Come hai fatto? Vuoi capire come ho fatto? Vai Nico entra Ma c'è Nico? Vieni Nico Nico Ragazzi Lo scherzo mio fratello è andato Da dio Nico Ragazzi Lucas Oggi stai per impazzire Ragazzi Mi hai fatto spaccare il pad 30.000 mi piace Te lo ricompro Ragazzi 30.000 like Te lo ricompro Chiedi Chiedi La ventesima volta Cioè me li copro E me li spro Chiedi ragazzi 30.000 mi piace Te lo ricompro Va bene ragazzi 30.000 like E compra Ragazzi Dovessimo arrivare a 30.000 mi piace Gli ricomprerò questo pad Però Costa 200 euro Quindi ragazzi Lasciate mele mi piace Noi ragazzi Ci vediamo domani Come salto qua sul canale Al 12 e mezza Da se ne so C'è tutto Lucas Bello